Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda puntata di Fai Musica da Casa, nostra nuova playlist su YouTube ogni settimana, usciremo con un pezzo nuovo, quando potremo uscire usciremo, quando potremo uscire, con la musica a manetta, e oggi vi portiamo la melodia del cerchio della vita, così se volete provarla sopra l'altra canzone ce l'avete e fa più o meno così, spegniamo, tagliamo, fa, due, tre si ripete esattamente, si ripete in loop per la seconda parte della prima strofa e poi parte il ritornello e poi magari la prossima volta proviamo a vedere quella sul ritornello esatto che forse cambiava qualcosa si cambia qualche nota però comunque rimane simile, voi provatela iniziamo a studiare questa e più o meno questo, spero si veda e in bocca al lupo peace, stay tuned, terzo video, ciao ragazzi ciao ciao ciao